All'umanità oggi servono ponti e non muri. Nel 25ennale della caduta del muro di Berlino, lo storico simbolo della divisione del mondo in blocchi contrapposti, Papa Francesco ha ricordato l'evento facendo appello al superamento di ogni barriera e alla caduta dei tanti muri che ancora oggi dividono i popoli in tutto il pianeta. 25 anni fa, il 9 novembre 1989, cadeva al muro di Berlino, che per tanto tempo ha tagliato in due la città ed è stato simbolo della divisione ideologica dell'Europa e del mondo intero, ha detto Bergoglio dopo la recita dell'Angelus in piazza San Pietro. La caduta avvenne all'improvviso ma fu resa possibile dal lungo e faticoso impegno di tante persone che per questo hanno lottato, pregato e sofferto, alcuni fino al sacrificio della propria vita, ha proseguito. Tra questi un ruolo di protagonista ha avuto il Santo Papa Giovanni Paolo II. Preghiamo perché ha continuato, con l'aiuto del Signore e la collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà, si diffonda sempre più una cultura dell'incontro e non accada più che persone innocenti siano perseguitate e perfino uccise a causa del loro credo e della loro religione. E mentre a Berlino culminavano le celebrazioni, il Papa nel pomeriggio ha ribadito la sua partecipazione morale all'evento anche con un tweet, ribadendo i concetti espressi qualche ora prima nel suo discorso.